Musica Venerdì 15 febbraio è il momento dell'aggiornamento con il bollettino di Toscana Neve. Continua la stagione dello sci e della neve su tutta la montagna toscana, si annuncia un altro weekend con neve e sole. Le temperature sono gradevoli, la neve in pista è dovunque sufficiente a garantire una buona sciabilità, ma montagna toscana non è solo sci alpino, anzi possiamo dire che questo fine settimana vedrà protagonista lo sci nordico. In Grafagnana al passo delle radici sono in corso i soggiorni sulla neve per i bambini delle scuole elementari e medie e sci di fondo anche sulla Miata dove è aperta la pista della Marsiliana con un anello di 3 km. Grazie al buon innevamento continua anche la stagione delle ciaspolate. Veniamo adesso al bollettino della neve ricordando che i dati sono salvo meteo avverso e per gli impianti sono quelli previsti aperti da domani 16 febbraio. A Betone e Val di Luce, altezza neve 40-80, impianti aperti 16 su 17, aperti tutti i collegamenti sci ai piedi e l'isono park del Pulicchio è in zona Sprella in Val di Luce. Info multipassabetone.it A Miata, neve 60-130, aperti 6 impianti su 8, domani saranno in funzione le sciovie Giolli, Asso di Fiori, Crocicchio e Bellaria e le seggiovie Cantore e Macinaie per un totale di 10 piste su 12. Aperta la pista di fondo della Marsigliana. Domenica sarà disponibile anche il bus da Vetta Cantore Vetta Amiata. Info amiataneve.it Dovanaccia, neve 40-60, impianti tutti aperti e info dovanaccia2000.it Garfagnana, neve 30-60, impianti aperti 4 su 5. Sono aperti tutti gli impianti del casone di Profecchia, mentre Careggia è aperto il campo scuola. Sono aperte le piste di fondo del Passo delle Radici, incluso il collegamento con Pian dei Lagotti. A Zeri, in Lunigiana, neve 30-60, impianti tutti aperti e le informazioni zunzeri.eu. Gli appuntamenti. Il 24 febbraio torna la ciaspolata della Garfagnana di Careggine. Sempre in Garfagnana sabato 23, ciaspole e gusto a San Pellegrino. E domenica 24 febbraio ciaspolata al Passo delle Radici. Alla Doganaccia prosegue lo sci in notturna il sabato sera sulla pista illuminata. E a Zeri, domenica mattina, facile ciaspolata per tutti, con partenza dal rifugio alle ore 10. È tutto per questo aggiornamento e auguro a tutti un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana sulle montagne toscane. A Zeri, domenica mattina, facile ciaspolata per tutti.